E' partita la finale con... e qui ci toccano Adelino Guumanizza davanti, poi Merlini in seconda posizione, rimane davanti Guumanizza, un po' è rimasto un po' di tenuto, ma c'è l'invasione che adesso deve vedere tutto, almeno per la terza posizione, davanti Guumanizza, al passaggio, siamo sull'ultima curva, sono nella campana, Adelino Guumanizza e Michele Merlini, due più veloci, anche in quali... I casi guardano, Adelino Guumanizza, sembra avere qualche chilometro all'ora in più, Merlini, vediamo se potrà passare, va a passare, va a passare, ci riesce, e va Massimo, il mio passaggio terzo, e l'abbiamo detto, Michele Merlini davanti, Michele Merlini, poi Guumanizza, e poi Massimo, il mio passaggio, Michele Merlini! Grazie! Grazie!